prima di cominciare con il video ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale e passare nella descrizione dove ci sono tanti link utili come ad esempio il contest road to 15k mi raccomando sostenetemi lasciate un bel like al video come ho già detto iscrivetevi attivate la campanellina andate nella descrizione per tutti i miei sponsor e per tutti i miei contatti detto questo ragazzi fai con la intro ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovo video ragazzi un nuovo progetto che stiamo mettendo in atto noi del team glitch per aiutarvi a creare un account da zero con nulla in pratica e creare questo account e riuscire ad avere soldi rango proprietà e auto lo scopo è questo allora questo progetto ragazzi si chiama progetto genesi genesi perché perché genesi ho avuto io questa brillante idea perché nella genesi in pratica l'uomo è stato creato in sette giorni diciamo la terra è stata creata in sette giorni in noi e noi in sette giorni creeremo un account ragazzi questa procedura la faremo in live a parte questo video diciamo di spam insomma chiamiamolo così di avvertimento in cui vi avvertiamo vi avverto io che ci sarà questo questo programma settimanale questa settimana diciamo e in cui andremo a creare questo account come state vedendo ragazzi io sto creando un account un account random che si chiamerà proprio genesi e quindi andremo a creare questo account e vedremo nell'arco di una settimana ragazzi badate bene che cosa riusciremo a fare in una settimana e che cosa si può fare ragazzi allora perché questo video allora questo video in pratica ok allo scopo di informarmi informarvi scusate di questo progetto che ci sarà questa settimana e di cui si faranno un paio di ore al giorno di live con questo account ragazzi con questo account con cui state vedendo nel video che sto creando adesso nel video ovviamente non vi faccio vedere la mail perché c'è una motivazione ragazzi allora innanzitutto vi ricordo di passare in descrizione per vedere tutti quanti i miei contatti per vedere tutto ciò che vi può interessare e per vedere anche il contest road to 15k ragazzi aiutatemi ad arrivare a 15k e e ci sarà un contest un'estrazione ma lasciamo perdere questa cosa qui e parliamo di questo progetto di questo progetto genesi ragazzi allora la mail è coperta per quale motivo la mail è coperta la mail è coperta perché finiti questi sette giorni ragazzi dove arriveremo arriveremo con l'account o meglio quanto rango ci sarà e quanti soldi ci saranno è indipendente a fine di questi sette giorni ragazzi questo account verrà regalato quindi incomincieremo oggi che giovedì giovedì prossimo regaleremo l'account su cui lavoreremo tutta la settimana e faremo delle live per farvi vedere come guadagnare soldi quale progetto a comprare cosa comprare e come riuscire a tirare su l'account a livello di abilità a livello di rp e a livello di tutto il resto sarà un vero e proprio tutorial completo ragazzi ogni live comprenderà un hashtag con il titolo e il numero della live creerò una playlist sul canale dove voi potrete andare a vedere diciamo tutto quanto tutto quanto inteso tutte quante le live e in queste live sotto nel commento in primo piano ci saranno diciamo i vari minutaggi che vi possono interessare per non farvi perdere tempo magari a guardare tutta la live se non volete guardarla vi lascerò il minutaggio in cui si farà questo il minutaggio in cui si farà questo ragazzi e come ho già detto a fine di questa settimana di questa maratona di live che faremo in questa settimana ok ci sarà una live ogni giorno con questo account che state vedendo che sto creando ora e a fine di questa settimana come ho già detto l'ottavo giorno verrà regalato questo account in qualunque condizione esso sia ragazzi cioè se a 120 di rango verrà regalato con 120 di rango se a 70 verrà regalato con 70 di rango se a 50 milioni verrà regalato con 50 milioni faremo un altro video in cui si farà l'estrazione e il vincitore avrà questo account allora come ho già detto a realizzare questo progetto siamo noi del team glitch in particolar modo mi sta aiutando centurion 81 quindi potrete trovare le mie live tutti i pomeriggi dalle 14 alle 16 in teoria ci siamo diciamo predisposti questo questo target cercare di fare due ore di live al giorno insieme a voi per cercare di vedere quanto si riesce a raccimolare facendo solo glitch ovviamente ragazzi facendo tutto il necessario per riuscire a raccimolare dei soldi ragazzi quindi come ho già detto faremo tutto quanto in live e voi potrete vedere potrete valutare potrete scegliere cosa fare cosa non fare e come farlo e soprattutto quando farlo come vedete ragazzi io sto facendo il prologo anche se un po in velocità però sarebbe stato un video lunghissimo però volevo sincerarvi della mia buona fede nel senso che comunque questo account è stato appena creato e come state vedendo sto facendo il tutorial della della storia e oggi pomeriggio appena andrò in live faremo il primo tutorial online e andremo a diciamo a cercare di incominciare a guadagnare qualche soldino grazie al caso bogdan grazie al give a car to friend grazie ad altre cose vedremo come guadagnare soldi e rango in pochissimo tempo e vedremo se vale la pena veramente crearsi un account con le proprie forze o comunque con i propri mezzi con i glitch o con tanto altro oppure se vale la pena comprare un account a 180 euro a 200 euro a quello che sia che sono i prezzi di mercato c'è ancora c'è anche qualcuno che lo vende a meno comunque sia i prezzi di mercato si aggirano a quella cima e quindi andremo a valutare tutto ciò so che riceverò molti dislike per questo progetto non mi interessa non ci interessa a noi del team glitch però noi vogliamo essere trasparenti vogliamo cercare di farvi capire di mettervi davanti a una scelta più che altro che sarebbe creare il mio account da solo oppure comprarne uno mondato quali sono le differenze ovviamente le differenze ci sono ragazzi perché ci sono c'è il non recoil c'è la corsa mondata ci sono tanti cazzi che comunque un account creato normalmente non può avere però comunque sia ci sono anche i vantaggi di tenersi quei 200 euro in tasca che ci fanno molto quindi come ho già detto ragazzi avete visto il diciamo il video spero che lo abbiate visto tutto che lo abbiate seguito fino alla fine che sappiate di che cosa sto parlando e spero che non mancherete in queste live pomeridiane dove andremo a vedere come salire come fare soldi e come fare tutto il resto ragazzi quindi io vi aspetto oggi pomeriggio e per tutta la prossima settimana alle 14 pomeridiane intanto cercheremo anche di portare video come vedete questo account è stato appena creato vi faccio vedere la data e l'ora della creazione dell'account esattamente fra otto giorni ragazzi daremo questo account come è ma io sono fiducioso penso che riusciremo a raccimolare un bel po di soldini e riuscire ad arrivare a un rango 120 e avere tutte le abilità detto questo un saluto a tutti i ragazzi e al prossimo video ciao belli ciao